Ministro, insieme si cambia e lei ha anche spiegato come, con esempi concreti che riguardano proprio la sanità. Ma sì, perché questa Costituzione non è, la Costituzione è una cosa stratta che regola la nostra vita, ma la Costituzione incide anche nella nostra vita quotidiana e con la riforma costituzionale, tra le altre cose, si inciderà sul titolo quinto. Quel famoso titolo quinto di cui tutti sentono parlare da decenni, dicendo che è tutta responsabilità del titolo quinto, se le questioni tra Regioni e Stato in caso di sanità non vanno bene. Bene, adesso abbiamo la possibilità di cambiarlo. Togliendo la materia concorrente, cosa significa concorrente? Quando su una stessa questione sia lo Stato che le Regioni devono mettere la propria opinione. Quindi voi immaginate i vieti e i controvieti con cui si è fatto il sistema sanitario negli ultimi 17 anni. Oggi invece l'organizzazione e le funzioni di programmazione vanno in modo esclusivo allo Stato, in modo esclusivo invece vanno le disposizioni generali per il bene comune e per la tutela della salute in capo allo Stato. Che cosa significa? Quindi le Regioni fanno l'organizzazione, le disposizioni lo fanno lo Stato, significa che lo Stato darà l'indirizzo generale di quello che poi deve essere attuato per garantire l'accesso delle prestazioni in modo uguale in tutte le Regioni. Cioè lo stesso livello di qualità di assistenza. Qualcuno potrebbe dire, ma anche adesso si fa? Beh, in realtà si fa con grandissima fatica e tutto deve sempre passare da intesa e comunque una volta che i LEA non sono realizzati, non sono applicati, lo Stato ha pochissime cose con cui intervenire per poter esercitare un diritto sostitutivo, cosa che invece può fare oggi con la riforma costituzionale. In soldoni, se una persona ha il diabete e ce l'ha in una regione in pieno di rientro o in una regione del nord, con la riforma costituzionale ha diritto ad avere accesso allo stesso livello di prestazione nella diagnosi, nella terapia, nei device che potrà utilizzare, insomma essere curato ad uno stesso livello che è un livello alto. Poi le Regioni che invece volano, che sono molto efficienti e virtuose, potranno addirittura avere deroghe in più. Quindi questa non è una riforma che uccide il federalismo, lo rende vero, attuale, nel senso che chi può fare di più può farlo, ma gli altri non devono fare di meno e quindi il prezzo delle inefficienze non le devono pagare i cittadini. Il Ministro delle Regioni Costa, presente insieme al Ministro Alfano, ha proprio sottolineato l'importanza proprio per il settore della sanità di questa riforma. Sì, perché la maggior parte del contenzioso e delle norme che vengono impugnate per un eccesso di competenze da parte delle Regioni sono proprio quelle che riguardano la sanità, ma c'è anche tutto il grande tema delle professioni. Per esempio abbiamo sul tema delle professioni sanitarie dei casi in cui una Regione disciplina una professione sanitaria che non è disciplinata nelle altre parti e questo si crea una professione dove le persone non possono circolare, possono lavorare solo lì in quel caso. Insomma, si è creata molta confusione e la riforma costituzionale mette mano a questa confusione e la risolve e ci rende un percorso molto più agile, veloce e snello per realizzare poi le cose concrete della nostra vita quotidiana. Per concludere, lei ha definito il sì un voto politico nel senso buono del termine. In che senso? Nel senso che è il voto per il nostro futuro e quindi in questo è veramente prettamente politico. è la scelta rispetto a un cambiamento e allora uno può votare sì o no, ma almeno io dico sappiate cosa votate, leggetevi bene la riforma costituzionale e poi prendete una scelta in modo libero, indipendente e autonomo perché la Costituzione è per sempre, non è per una legislatura.